Alcune fasi della costruzione della bussola, strumento base per la navigazione. Le varie parti dell'apparato sono fabbricate con la massima precisione ed uno speciale sistema di sospensione assicura la costante orizzontalità del piatto indice, racchiuso in diversi ordini di custodie. Masse di ferro dolce vengono collocate attorno allo strumento per neutralizzare l'attrazione magnetica del metallo della nave. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!